cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale oggi taglio del prato con riserva a batteria ego power plus modello lm 1900 sp montiamo una batteria da 56 volt e in questo caso usiamo il rullo posteriore che abbiamo montato nella parte posteriore della serba ve lo faccio vedere meglio eccolo qua ci permette di strippare il prato quindi lasciare un effetto a strisce sul tappeto eboso che già vi avevo fatto vedere adesso iniziamo con il taglio e vi faccio vedere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti come potete vedere l'effetto è bellissimo quindi non per forza dobbiamo avere una raserba elicoidale sicuramente il taglio del raserba elicoidale è nettamente superiore parliamo proprio di taglio a livello di lamina fogliare poi sappiamo benissimo che il raserba elicoidale ha i rulli posteriori quindi non cammina su ruote e quindi l'effetto è ben diverso però possiamo avere anche un effetto con un rullo una spazzola posta dietro il raserba grazie a tutti grazie a tutti